Ciao, sono Gianluca e sono uno studente iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale in Economia, Diritto e Finanza d'Impresa, Curriculum EDI. Sia che vogliate diventare dei professionisti, sia che miriate ad intraprendere una carriera nel contesto d'impresa, questo è il corso giusto per voi. Come saprete, il mondo del lavoro di oggi richiede conoscenze ampie e differenziate. In questo senso, il modo in cui il piano di studi del Curriculum EDI risulta strutturato riflette perfettamente questa consapevolezza. Al termine dei due anni vanterete infatti solide competenze aziendali e finanziarie, nonché una vasta padronanza degli istituti giuridici che plasmano la realtà economica. Si tratta di un grande valore aggiunto, in quanto qualsiasi questione lavorativa vi verrà sottoposta in futuro, saprete coglierne tutte le implicazioni, sia economiche sia di diritto. Io sto sperimentando questa cosa lavorando all'interno di uno studio di commercialisti e posso garantirvi che si tratta di una dote davvero molto apprezzata, che con ogni probabilità vi porterà ad essere contattati da società o professionisti interessati a voi già prima del conseguimento del titolo di laurea. Per coloro che, come me, ambiscono a diventare dottori commercialisti, il Curriculum EDI offre inoltre una straordinaria opportunità, consistente nella possibilità di svolgere 6 dei 18 mesi di tirocinio professionale già prima del conseguimento della laurea. Inoltre, sarete esonerati dall'orvolgimento della prima prova in sede di esame di stato. La qualità della didattica è ineccepibile e i corsi estremamente professionalizzanti. Inoltre, essendo la classe meno numerosa rispetto ad una laurea triennale, cambia completamente il rapporto con i professori, diventa più immediato e questo consente da un lato di chiarire con più facilità eventuali dubbi sorti in classe, dall'altro di mettersi in gioco e di confrontarsi in modo diretto su questioni di interesse e di attualità. Ho concluso. Spero di essere riuscito a trasmettere tutta la soddisfazione che in questi anni ho avuto modo di sperimentare all'Università degli Studi dell'Insubria. Per qualsiasi domanda o approfondimento, sarò comunque con voi mercoledì 17 giugno dalle ore 15 su Microsoft Teams per l'incontro di presentazione del corso di laurea. Grazie a tutti per l'attenzione.